ciao benvenuti bentornati su questo canale io sono sempre stefania e oggi vi presento il progetto che inizierà dal primo di gennaio e che durerà per 31 giorni quindi per tutto il mese di gennaio una volta al giorno ci ritroveremo per praticare avrete un video al giorno che potrete fare al mese di gennaio o anche nei mesi successivi potrete farli in sequenza o decidere quali praticare il consiglio è quello sì di praticarli in sequenza perché c'è un progetto ovviamente dietro questi 31 video in cui inizieremo essenzialmente con quelli che sono i fondamentali quindi delle pratiche che affrontano gli elementi diciamo base dello yoga e poi piano piano evolveremo verso delle pratiche più impegnative ci sarà un po di tutto all'interno di questi 31 giorni quindi lata yoga classico ma anche lo yoga flow anche delle pratiche un po diverse rispetto al solito alcune più tranquille altre più movimentate quindi aspettatevi diverse sorprese da questo percorso di 31 giorni spero che vogliate e che vorrete unirvi a me per questo percorso di inizio anno sia che siate già mie allievi sia che non mi abbiate mai vista né conosciuta perché sarà un bel viaggio alla scoperta di noi stessi perché lo faremo insieme quindi ci vediamo il primo di gennaio e se non volete perdere nessun video mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo da ricevere una notifica all'uscita del nuovo video e non vedo l'ora di praticare con voi